Manca ancora un passaggio tecnico, ma l'Aleatico dell'Isola d'Elba è pronto per diventare l'ottava DOCG della Toscana. Venerdì scorso a Castagneto Carducci l'apposita commissione delegata dal Ministero per l'Agricoltura si è riunita per esaminare il disciplinare tecnico che dovrà essere adottato per conferire la denominazione di origine controllata e garantita all'Aleatico passito dell'Isola d'Elba, alla presenza di tutti i produttori presenti sul territorio. Alla disciplinare è stata apportata qualche variazione riguardante, fra l'altro, la resa per ettaro, il periodo di appassimento delle uve che deve essere minimo di 10 giorni, l'acidità totale minima e la data di imbottigliamento che deve essere non precedente al 1 marzo dell'anno successivo a quello di produzione. Ci sono quindi i tempi tecnici affinché l'Aleatico 2010 venga contrassegnato con la fatidica etichetta DOCG. L'ultimo adempimento è infatti previsto per martedì 16 novembre, quando nella sede romana del Ministero dell'Agricoltura verrà effettuata l'ultima verifica sulle documentazioni prodotte dalle varie commissioni, conferendo in maniera definitiva l'atteso riconoscimento.